I throw my hands up in the air sometimes, saying, ayo, gotta let go. I wanna celebrate and live my life, saying, ayo, baby, let's go. Diana, per anni il mio unico punto di riferimento nell'agenzia. Lei garantiva riservo, io ricambiavo con la perfezione. Un rapporto di fiducia. Lo scorso 10 agosto, Diana è riuscita a mettere in ginocchio l'agenzia. Ha cancellato tutti gli account, tagliato le linee di comunicazione. Ha smascherato gli agenti e sfruttato il caos per sparire. Ora la nuova agenzia l'ha finalmente trovata. E mi ha offerto il lavoro. Un giorno, penserò a tutto questo come a un incarico qualsiasi. Dopotutto, è il mio lavoro. Eccoci qua ragazzi, finalmente con un nuovo episodio di Hitman Absolution. Allora, contratti, questa qui è la modalità praticamente online, ma oggi praticamente partiamo con la storia. Ok, se ho iniziato una partita, ma ho iniziato una partita online, ecco, è giusto per vedere. Comunque adesso diciamo opzioni. Allora, audio. Che voglio togliere la musica, è già tolta. Effetti. Generale, perfetti. La musica non voglio, perché altrimenti ci sono problemi poi con YouTube. Allora, mira visuale, lo stesso, suggerimento istinto, sì. Indietro. Facciamo una nuova partita. Via. Allora, potenziato, facile, normali, direi di fare il professionista, difficile. Perché esperto e purista ancora, diciamo, è un po' troppo presto. Nessun checkpoint attivo dal giocatore, l'istinto in uso si consuma, non si rigenera, l'istinto non fornisce suggerimenti, nemici elevati con tempi di reazioni minimi. Quindi, io direi di fare difficile, dai. Via. Allora, adesso ragazzi, vediamo, questo l'abbiamo eliminato. Dobbiamo cercare di fare fuori quello là. Ma per noi sarebbe tutto molto più semplice se ci informassi su quel che succede. Passo e chiudo. Perfetto. Ok, adesso ne abbiamo uno da quella parte. Perfetto. Ok. Lo occultiamo qua dentro. Il corpo è nascosto. Nel nascondiglio c'è spazio per un altro corpo e puoi ancora rifugiarti al suo interno. Perfetto. Allora, con RB si ricarica. Allora, quanta gente c'è qua sotto? Vediamo. Uno, due, tre, quattro. Il quinto là a sinistro vicino alla roccia. Eh, perché... Perché, perché... Bisogna capire come fare per distrarli. Allora. Rifacciamo il punto. Uno, due, tre, quattro. E uno, cinque. Potrei ammazzare quello là a sinistra sotto dove ci sono i divani. Però passando qua dal campo da tempi. Sì, proviamo. Proviamo a andare di qua. Intanto, guardate, poverino, come è rimasto. Ti farà male il braccio poi. Allora, con la bici appoggiamo al muro, allora. Eccolo là. Uno lì al muro e gli altri sono là. Questo dove va? Non mi direi che sta venendo qua su. Oh! Prepariamoci ragazzi che sta venendo qua. Stai per essere notato. L'indicatore di attenzione mostra... Stai per essere arrestato. Ma non scappare. Fingi di arrenderti o avanza lentamente verso una zona isolata. Quindi, elimina il nemico. Perfetto. Ce l'abbiamo scampata. E come facevano a farmi notare? Era dietro il muro, sto stronzo qua. Allora, questo qui, cosa faccio? L'ammazzo, non l'ammazzo, l'ammazzo, non l'ammazzo, l'ammazzo, non l'ammazzo. La testa... Sì, mamma, ho capito, mamma, sì. L'abilità e i sensi sovrumani dell'agente 47 gli permettono di percepire ogni dettaglio dell'ambiente. Fai attenzione. Ci sono diverse guardie nel giardino. Ho mancato, ragazzi. Se qualcuno all'ascolto... In teoria ce ne sono ancora uno, due, tre, quattro, cazzarola. Quattro, quattro che mi cercano. Vai, va, te ne girati, che come ti giri ti fulmino. Ti scateno tutta l'ira. Ma staccati dal muro, cracchio. Mando. E' stato scoperto un corpo. Le guardie saranno in allerta. Usa i ripari per proteggerti dal fuoco nemico. Oppure cerca di fuggire inosservato e nasconditi. Il bersaglio è a riparo. Dobbiamo muoverci per sanarlo. A terra! Sta mirando alla testa! Allora, dov'è? E' qua dietro. Il bersaglio si è nascosto! Ecco Alpha! Versaglio in vista! Hai ripreso il controllo della situazione. Puoi decidere di eliminare le tracce prima di procedere. Guardate, sono tutti morti. Ah, noi siamo andati bene però. Vabbò, dai. Via, 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 via! Usa l'istinto per anticipare le mosse del nemico. Sembra che lo chef stia preparando un bel pranzetto. Ti dirò, il lavoro sarà anche noioso come fissare un muro. Ma almeno si mangia bene. Le armi affilate o accuminate sono letali quando vengono lanciate e permettono di creare dei diversivi. Uccisione da manuale. Puoi gettare il corpo oltre la ringhiera. Travestiamoci, vai. Sei travestito da guardie. Con questo travestimento hai libero accesso a tutte le aree esterne. Considera che le altre guardie scopriranno la tua vera identità se ti avvicini troppo. Quindi mantieniti a distanza. Ok. E due. Per passare inosservato e infiltrarti nella serra più avanti ti servirà un travestimento. Inganna. Per entrare nella serra dovrai avvicinare. Usa l'istinto fino a quando non sarai dentro al sicuro. I giardinieri in cui ti imbatterai non nutriranno sospetti. Ma dovrai fare attenzione alle altre guardie. Mi spiace. Perfetto ragazzi siamo riusciti a passare senza problemi usando l'istinto. Ok. Perfetto. Sporgenza. Ok. Ho superato il perimetro. Sto entrando nella villa. Mi scendi. Mi dirigo verso il bersaglio. Bene. Infiltrati nella villa ed elimina Diana Barnwood. Quanto a Victoria, portala con te. Illisa. Ok. Tengo molto a lei. E anche la genzina. Mi prende in giro. Un attimo, non è sicuro. Non è cancro alla prostata. Ciao bello. Ora ti trovi dentro la villa. E il tuo travestimento desterà sospetti nelle guardie in quest'area. Procurati un altro travestimento. O cerca di non farti scoprire. Andiamo, andiamo. Ok. Quindi. Nel corso del gioco troverai diverse prove. Cancella per implementare la tua valutazione e ottenere ulteriore... Madonna quanto parli, oh. Uffa. Il travestimento da guardia della villa ti dà libero accesso a tutte le aree interne. Considera che le altre guardie della villa scopriranno la tua identità se ti avvicini troppo. Quindi mantieniti a distanza. Ok. Andiamo. Al di là di questa porta verrà attivato il sistema di valutazione che monitorerà il tuo stile di gioco e ti ricompenserà per i tuoi progressi. Perfetto. Nell'angolo in alto a sinistra troverai ogni informazione. A te decidere come affrontare l'incarico. Buona fortuna. Allora c'è una persona lì subito. Dov'è che l'ho già visto? Meglio muoversi. Usa l'istinto per trovare oggetti utili. Oh ma l'ho strozzato. C'è l'ho... L'ho addormentato. Non lo volevo ammazzare. Ma porco cane. Ecco ragazzi vedi se sbagliamo, come in questo caso ho fatto io, in questo caso come ho fatto io mi scala dei punti. Ok, sta venendo su. L'obiettivo era quello con la... col camice nero che abbiamo visto lì, con la giacca. Perfetto. Sicuramente ha qualcosa che ci interessa, eccolo qua. Ciao, hey! Bad boys, bad boys. C'è bene due. Perfetto ragazzi abbiamo preso la scheda. Ottieni un punteggio sufficientemente alto e sbloccherai una tecnica da assassino. Perfetto, sblocca. Via. Il tuo punteggio e il prossimo bonus sono... Mi avvicino al bersaglio. Ehi ehi. No dai, non laggare così. Ora ricorda, Diana se l'è cercata. Ha tradito. L'agenzia, il codice, tutto ciò che rappresentiamo. È troppo pericolosa per restare in vita. Va bene, ci penso io. Pensaci, quando dovrai tirare il grilli. Che pensi? Che pensi? Oh la la. Scena porno? Aspetta. Non aspetta. Andiamo avanti ragazzi. Perché la scena di musica poi dopo... Premi lb. Correndo farai rumore. e per i nemici sarà più semplice individuarti. Ok. Ora non corro. E non temi? L'agente 47 può liberarsi dei nemici con rapidità e precisione. Ma ricorda, quando sei concentrato sui bersagli, consumi istinto più velocemente. Sposta la visuale per concentrarti su un amico. Quindi aggancia il bersaglio. Danni fatali. Concentrati sul prossimo... Un amico. Non è l'agico. Cosa cosa... Mamma mia. Grande Dio! Perfetto. Perfetto. Forza la serratura. Vai, vai! Armi in vista Tu sai chi sono? Lo so Lei è morta, vero? No Andiamo, stammi vicino Dove stiamo andando? Però c'è un'altra macchinina, eh? Sali Ci siamo Lavoro eccellente, 47 Porta la ragazza al punto di accolta Perfetto ragazzi, dai, questa prima missione l'abbiamo fatta, dai Quindi buon assassino Villa, 0 Meno 180 per quella neutralizzazione là Io pensavo di averlo soffocato Comunque dai, destrezza armata 1 Concisione tipica, silenziosa Corpo nascosto 1 Ah, anche se nascondi i corpi ti dai punti Obiettivo completato 18.000 punti Niente, se il video vi è piaciuto Non so, se avete interesse che facciamo una serie Lasciatemi un commento Ci vediamo presto, ciao